L'incidenza della Puglia raddoppia. In sole due settimane i contagi si moltiplicano e passano dai circa 564 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, nella settimana tra il 25 febbraio e il 3 marzo, agli oltre 1.000 contagi ogni 100.000 residenti nel periodo tra l'11 e il 17 marzo. Fotografia di una curva pandemica che in Puglia è tornata a correre e anche piuttosto rapidamente a causa della diffusione della variante Covid Omicron 2, ancora più contagiosa e che sta travolgendo la regione pugliese. Il bollettino odierno conferma l'andamento 7.392 le nuove positività registrate a fronte di quasi 34.000 tamponi eseguiti. Sono le province di Lecce e Bari a rilevare più casi in un giorno, 2.251 nel capologo pugliese, 2.177 nel leccese, 984 i contagi attribuiti alla provincia di Foggia, 779 nel Tarantino, 644 nel Brindisino e 491 nella BAT. Il totale delle positività da inizio pandemia in Puglia ha superato quota 830.000 ancora vittime, altre quattro secondo i dati del bollettino di oggi il totale sale a 7.854. Capitolo ricoveri, i pazienti in area non critica degli ospedali Covid della regione, salgono a 570 più 10 rispetto all'ultimo aggiornamento, mentre le terapie intensive occupate sono 28, ieri erano 29 e dunque stabili. Gli attualmente positivi sono quasi 100.000 e già domani quella soglia verrà certamente superata. L'unica buona notizia è il nuovo incremento dei negativizzati, circa 4.000 i guariti nelle ultime 24 ore, l'unico dato a dare fiducia in vista della fine dello stato d'emergenza ormai imminente.